Folli in festa ieri mattina con l'inaugurazione della nuova piazza prospicente il Palazzo Comunale. Riqualificazione voluta dall'amministrazione, così Follo avrà una vera e propria piazza, punto di incontro e di aggregazione sociale. Questa deve essere una piazza che deve essere vissuta, un luogo di incontro, di scambio di idee, di confronto. Io sono veramente felice, questa è la piazza dei cittadini di Follo. La piazza per lo più pedonale, con abbellimento e panchine, non avrà più quel parcheggio vetusto. Per far fronte al bisogno di parcheggi ne sono stati realizzati tre adiacenti al Palazzo Comunale. Oltre all'inaugurazione della piazza, taglio del nastro per il parcheggio principale e scopertura della targa della piazza stessa, intitolata a Giacomo Matteotti. Le varie opere di riqualificazione sono state realizzate anche grazie al contributo di provincia e regione Liguria. Le piazze sono importanti per le nostre comunità, per tornarsi ad incontrare, per vedersi, per poter parlare non solo sulle piazze virtuali dei social, spesso ricolme solo di odio, ma anche per guardarsi in faccia e costruire insieme quello spirito che fa grande un paese.